Noi ci siamo scelti, non è così? In un umile appartamento vive una comunità di persone che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una nonna, di una coppia e di una bambina trovata per strada. La famiglia, per definizione, non si sceglie. O forse la vera famiglia è proprio quella che si ha la facoltà di scegliere. Il libero arbitrio parentale è un tema ricorrente nel cinema di Coreda, dallo scambio dei figli di Father and Son alla sorellanza estesa di Little Sister. Buoni, cattivi, giusto e sbagliato diventano concetti che si ribaltano sullo spettatore e sui suoi dubbi, con una padronanza della narrazione che guarda ad Akira Kurosawa, ancor più che al consueto termine di paragone di Oso. Con un affare di famiglia si ride, ci si commuove e si rischia di finire con il cuore in frantumi. Mai così pessimista e mai così lucido, Coreda è ormai un classico vivente. Coreda è ormai un classico vivente. Grazie.